Ciao ragazzi bentornati sul canale di mca mondo carriere natore io sono sempre andre e oggi ragazzi continuiamo la nostra serie dei nuovi talenti aggiunti nuovissimi giocatori che come vedete sono tutti già presenti su fifa infatti la schermata è quella proprio della carriera quindi tutti questi giocatori che vedrete in questo video se iniziate una nuova carriera o comunque se l'avete iniziata nei giorni scorsi neanche troppo lontano diciamo così ma diciamo nella settimana due settimane fa avrete questi giocatori all'interno del mercato delle altre squadre quindi mi raccomando se avete iniziato carriere magari un mese fa due mesi fa non è detto che abbia tutti questi giocatori perché non mi ricordo proprio quando sono stati aggiunti di preciso però ragazzi senza perdere altro tempo direi di iniziare subito con questo nuovo talento aggiunto un difensore centrale Mark Mampassi un russo diciottenne Lokovtich Mosca è la squadra in cui gioca 66 di overall con 81 di potenziale giocatore che è molto interessante difensore centrale tra l'altro che dal nome Mampassi potrebbe anche sembrare un non passi per quanto riguarda proprio il ruolo che deve ricoprire 18 anni 1,85x76 kg 2 mosse abilità e 3 di piede debole 1,9 milione di valore 1,7 come stipendio settimanale e forse bisogna offrire praticamente 2,2 milioni, 2,4 milioni secondo me per portarsela a casa senza grossi problemi diciamo così è un giocatore che comunque è interessante come vedete 67 accelerazione 65 vita scatto 73 di forza che sicuramente è un ottimo valore per quanto riguarda appunto un difensore centrale con lettura difensiva 65 contro simpia di 66 scivolata 62 e anche ragazzi caratteristica importante per il calcio moderno dal punto di vista proprio di tecnica di base 68 precisioni di testa 68 passaggio lungo e 62 di passaggio corto quindi è un giocatore molto interessante un difensore centrale di nuova generazione di new gen perché è molto abbastanza veloce molto abbastanza non si può sentire però è abbastanza veloce buona forza fisica abbastanza alto tecnicamente interessante quindi sicuramente arrivato all'81 di potenziale diventa veramente una bestia Alassane Sidibe ragazzi centrocampista centrale che come vedete del Bergamo calcio dell'Atalanta della Costa d'Avorio 61 di overall con ragazzi 76 di potenziale 1,78 per 73 kg diciamo nella norma nulla di che né troppo né poco insomma nella norma 19 anni 2 massabilità 3 di piede debole 775 mila euro di valore con 65 accelerazione 67 velocità scatto quindi sicuramente è un giocatore interessante soprattutto anche abbastanza veloce a work rate di attacco alti e infatti come vedete ha posizionamento attacco 68 quindi ragazzi in realtà può essere più che altro un trequartista più che una mezzala o comunque una mezzala a cui piace tanto attaccare non aspettatevi grossi cose a livello difensivo come vedete 44 lettura difensiva però come vedete anche un 40 di finalizzazione quindi insomma deve un po' decidere cosa vuole fare della sua vita questo Sidibe questo è vero però ottimo dribbling ottima potenza tiro ottima tecnica di base 70 passaggio corto 68 passaggio lungo secondo me ragazzi può essere spostato come trequartista assolutamente senza nessun tipo di problema e secondo me diventa anche più interessante Antonio Foti ragazzi giocatore del Cipro Antonio tra l'altro nome italiano ma è Cipro è Cipriano come si dice non lo so dell'entra francoforte centrocarmista centrale alla destra o trequartista 60 di overall con 80 di potenziale ragazzi è già stato anche upgradeato perché appena era stato giunto aveva 59 di overall quindi anche upgradeato questo ragazzo anche lui giocatore molto offensivo quindi mezzala che nasce come vedete anche dei secondi ruoli che può ricoprire molto offensivo due possibilità 3 di piede debole 675 mila euro di valore con 550 come stipendio settimanale buona velocità assolutamente 69 accelerazione 68 vita scatto considerate ragazzi che parte a 60 di overall quindi avere già questa velocità non è poco e non è da tutti 72 equilibrio buon passaggio corto buon dribbling e finalmente un giocatore con una buona finalizzazione 64 di finalizzazione per un giocatore che nasce prima di tutto mezzala ma anche per un ala destra non è assolutamente scontato abbastanza veloce controllo palla 68 quindi sicuramente è un giocatore anche abbastanza alto 180 per 70 kg quindi abbastanza formato che secondo me può essere una soluzione un po particolare non so come alla destra ma come trequartista secondo me è molto forte bradley fink attaccante del borussia dortmund 2 svizzero 18 anni ragazzi con 5 di piede debole 1 89 per 74 kg e ragazzi è holland cioè c'è veramente poco da fare ha i capelli lunghi come lui è attaccante come lui è alto praticamente come holland 5 di debole non le ha forse holland è forse una 3 o 4 però insomma più o meno è un giocatore molto simile solo che lui è destro e holland o aland chiamatelo come volete è mancino 61 di overall ragazzi con 80 di potenziale anche lui è stato upgradeato perché appena è stato raggiunto aveva 60 di overall quindi anche lui più 1 di overall 825 mila euro di valore 500 come stipendio settimanale 68 accelerazione 73 verità scatto ragazzi è un giocatore come holland è assurdo cioè ragazzi ditemi voi le quali super differenze ha nessuna anche forza 74 finalizzazione 62 potenza tiro 61 presione di testa 61 ragazzi è veramente interessante l'unico problema è una volta che ha la palla tra i piedi passarla potrebbe essere un po complicato diciamo così perché 60 di controllo palla 30 di passaggio lungo per il resto però ragazzi sicuramente per il ruolo che deve ricoprire attaccante ricorda assolutamente un giocatore tra l'altro che gioca nella prima squadra il borussia dortmund veramente forte giorgio cittadini ragazzi attenzione difensore centrale altro ragazzo dell'atalanta italiano 19enne 60 di overall con 77 di potenziale ma ragazzi è un po bassettino perché 180 per 75 chili potrebbe essere un po bassettino è però 600 mila euro di valore 3100 come stipendio settimanale quindi come stipendio non chiede assolutamente poco 61 di verità scatto me lo aspettavo un po più veloce in realtà data l'altezza mi aspettavo almeno un 60 anche di accelerazione però non è lento se tanto l'elevazione e qua recupera probabilmente per questo che riesce a fare il difensore centrale recupera centimetri che nell'altezza di base diciamo così non ha 64 di forza 62 resistenza per quanto riguarda ragazzi livello tecnico abbiamo insordito con manpassi che era un difensore centrale di nuova generazione molto bravo anche tecnicamente questo cittadini ragazzi passaggio lungo passaggio corto non ci siamo assolutamente ci siamo un po di più per quanto riguarda la difesa pura per il resto ragazzi c'è tanto da migliorare thomas arauco ed è il penultimo giocatore e il penultimo arauco perché chiuderemo con due arauco del belfiga quindi iniziamo con un difensore centrale proprio lui 19enne 65 di overall con 81 di potenziale giocatore interessantissimo di 187 per 80 kg vale un milione e 7 quindi veramente è stato aggiunto un giocatore importante con 65 accelerazione 69 velocità scatto 65 forza dal punto di vista tecnico diciamo che 26 di passaggio lungo è imbarazzante assolutamente sì però passaggio corto 55 ce lo facciamo andare bene 57 lettura difensiva contrasto in piedi 77 scivolata 68 però ragazzi per quanto riguarda le statistiche da difensore è bello grosso pesa bene 80 kg insomma ragazzi è sicuramente importante come difensore centrale mentre l'ultimo arauco è enrique l'attaccante del benfica quindi abbiamo praticamente un difensore centrale e un attaccante copriamo i due estremi del campo anche lui ragazzi è molto forte 66 di overall con 81 di potenziale praticamente come il difensore centrale solo che lui parte con uno in più di overall due possibilità due piedi debole questo va un po sistemato 1 e 80 di altezza per 72 kg sicuramente un giocatore interessante bello grosso un attaccante che si fa sentire con due milioni di valore insomma sono tanti soldi però come vedete 67 accelerazione 64 vita scatto forza 66 reattività 72 elevazione 64 per quanto riguarda poi la potenza tiro 74 cioè ragazzi questo calcia bene forte e mira la porta perché addirittura 67 già di finalizzazioni e anche rigorista 68 con 66 di overall quindi anche super rigorista quindi sinceramente se volete provare un arauco tra i due sicuramente vi consiglio l'attaccante anche se il difensore centrale va un po allenato però potrebbe assolutamente essere un'ottima soluzione quindi ragazzi siamo andati alla fine anche di questo video spero che l'abbate trovato interessante commentate ragazzi qua sotto se proverete uno di questi nuovi talenti aggiunti iscrivetevi al canale e se non mi piace attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi